Leonardo Silva Revisore Leonardo Silva Revisore Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili. Questa è una frase che campeggia nell'Aula Magna di CalArts, l'università fondata e voluta da Walt Disney negli anni Sessanta, dove ho avuto la fortuna di passare qualche anno nell'Advisory Board. L'importanza dei sogni. Il primo sogno che ricordo da bambino è un lungo, grande piano, un prato verde, nel quale centinaia di bambini si tengono per mano. E la sensazione è una sensazione di grande gioia. Giocano, scherzano, camminano, corrono. Sul fondo di questo prato c'è una foresta con degli alberi di alto fusto. Nel mezzo di questa fila di bambini ci sono io e accanto a me una brunetta che, devo dire, mi piaceva parecchio. Sul sinistro una biondina, ma quella non me la ricordo meno. La mia vita, quando ci ripenso, è stata proprio così. Una lunga camminata con tante persone che mi hanno dato una mano, alcune per dei periodi più lunghi, altri per dei periodi più corti. e in questo percorso ho avuto la fortuna anche di fare un mestiere che ho amato moltissimo e che amo tuttora, faccio tuttora. Sono un famigerato banchiere d'affari. Un mestiere che mi ha portato a girare il mondo, un mestiere che mi ha fatto incontrare alcune delle persone più interessanti che in un certo modo decidono i destini del mondo. Capi d'azienda, politici, governi. E in questo ruolo ho girato tante praterie. Le ho girate tenendo per mano mia moglie, che tra l'altro è qui in prima fila, e insieme a lei i nostri tre figli. Due sono nate in Brasile, a Rio de Janeiro, un altro a New York. Dopo tutti questi giri arriva il Covid, siamo rientrati in Italia e tutto il mondo si ferma. In quel momento, credo che come tutti voi, mi sono chiesto se ci fosse qualcosa di diverso a cui dovessi pensare rispetto alle mille occupazioni giornaliere. E in quel momento, credo che ricorderete tutti quella serata di pioggia in Piazza San Pietro, dove Papa Francesco ci dice non potete pensare di vivere sani in un mondo malato. Contemporaneamente, uno dei miei più cari amici è ricoverato per il Covid in terapia intensiva. Gli manca l'ossigeno. Allo stesso tempo, in un posto che con la mia famiglia frequentiamo ormai da vent'anni, un paradiso verde, si scatena un disastro ecologico. E nell'arco di pochissimi anni, 20 milioni di ulivi su una superficie di 5.000 km quadrati, da delle distese verde paradisiache, diventano un deserto. In quel momento, con degli amici, decidiamo di fondare la Fondazione Silva, che si occupa di riforestazione. Vi voglio farvi vedere un breve video che vi dà un'idea di cosa è successo in quella terra. La Fondazione Silva A questo punto voglio raccontarvi le poche cose, in questi minuti che avremo, che ho imparato in tutti questi giri e che, in qualche maniera, ho cercato di applicare nella creazione della Fondazione Silva. La prima cosa, credo, che dobbiamo tutti tenere presente è che non c'è più ossigeno da perdere. Questo è il motto della Fondazione. Ha a che vedere con l'ossigeno, questa risorsa che diamo per scontata, ma che, in realtà, è cosa ci tiene in vita. Voi sapete che la Terra, potete immaginarla come un grosso pallone, immaginate di 12 metri di diametro. Beh, non sono più di 3 o 4 millimetri l'atmosfera terrestre piena di ossigeno che essenzialmente ci permette di vivere sulla Terra. Beh, grazie all'anidride carbonica, grazie all'inquinamento, ci stiamo giocando questa risorsa. E allora non c'è più ossigeno da perdere. Cosa possiamo fare di fronte a questo discorso? Due cose. Una è la transizione ecologica. Nel mio mestiere me ne occupo praticamente tutti i giorni. Tutte le industrie dovranno modificare i loro atteggiamenti. Pensate alle macchine. Dovranno a diventare elettriche in tempo rapido. Ma questo discorso, per mille ragioni, costerà molti soldi e ci sono mille resistenze. C'è una seconda cosa, ancora più potente, ce lo dicono tutti gli scienziati, piantare alberi. Per darvi idea di quanto è potente questo discorso, ogni albero assorbe un'anidride carbonica e rilascia ossigeno, sappiate che a livello politico, adesso che si parla seriamente di cambiamento climatico, Macron ha annunciato la settimana scorsa che vuole piantare in Francia un miliardo di alberi. Un nostro scienziato, un'eccellenza mondiale, Stefano Mancuso, ci dice che potremmo ritardare la transizione ecologica, ritardare il cambiamento climatico se piantassimo mille miliardi di alberi. Quindi la missione nostra è che non c'è più ossigeno da perdere e dobbiamo piantare il più alberi possibile. Non solo, ma dobbiamo sensibilizzare perché la nostra cultura non ci ha portato lì. Sappiamo tutto sulla storia dell'uomo, ma di alberi sappiamo molto poco. La sfida è di quelle che fanno tremare i polsi, ma nulla è impossibile. Tanti anni fa il governo brasiliano mi chiese di andare a trovare uno dei personaggi più mitici, un messicano dal nome di Carlos Slim. E la prima volta che io senti questa frase, nulla è impossibile, lo senti in questo incontro con lui, dove io andrei a dirgli che l'offerta che lui aveva fatto per questa azienda che era Telebras, l'equivente di Telecom Italia, era irricevibile e non era possibile andare avanti. Lui si alzò, mi mise una mano sulla spalla e mi disse Luigi, con cabeza, corazonico, Hones, tutto è possibile. In pratica, avrete capito che con la testa, il cuore, e credo che si dica coraggio, tutto è possibile. Quindi lui aveva ragione, infatti poi ottenne quello che voleva, ma se facciamo quello che è successo proprio con il Covid, uniamo tutti gli sforzi, industria, politica, accademia, e ci concentriamo, così come abbiamo trovato i vaccini, troveremo la soluzione tecnologica anche per il cambiamento climatico, per l'assorbimento di questa anidride carbonica in eccesso nell'aria che crea l'effetto serra. Nel frattempo cosa possiamo fare? Una sola cosa, tutti, piantare alberi. Alberi che ci danno ombra e alberi che assorbano l'ide carbonica e rilasciano l'ossigeno. Cos'è il successo? Quando abbiamo fondato Silva ci siamo chiesti cos'è il successo. Quando vado a intervistare delle persone nelle grandi università in giro per il mondo, 4 su 10 dei ragazzi, quando gli chiedo cosa vuoi fare tra vent'anni, mi dicono che vorrei aver avuto successo. La cosa paradossale è che il successo, se ci pensate, è il participo passato del verbo succedere. E quindi è riferito al passato, non al futuro. L'altra cosa, quando si parla di successo interessante, nel corso della mia vita, io ho notato che ci sono tre tipi di esseri umani. Una prima, che sono quelli che amano fare succedere le cose. Una seconda, che sono quelli che amano guardare quelli che fanno succedere le cose e magari spesso criticarli. E c'è una terza, che forse è quella maggiore, che si guarda tra di loro e dicono, ma cosa è successo? Ecco, questa, se volete, è la missione di Silva. Fare succedere qualcosa. Sensibilizzare sulla importanza delle piante per affrontare e mitigare il cambiamento climatico e piantare più alberi possibile. Ovviamente tenendo presente le esigenze del territorio in cui operiamo. abbiamo cominciato in Salento, stiamo andando in Sicilia, andiamo da diverse altre parti, perché la missione è globale, come tutto quello che ha a che vedere con il cambiamento climatico. Di che cosa avevamo bisogno? Una squadra. E la squadra, come sapete, è una delle cose più importanti. Nel caso specifico, il famoso proverbio africano, se vuoi correre, corri da solo, ma se vuoi andare lontano, devi camminare insieme. È assolutamente applicabile. Io questo l'ho visto in tante manifestazioni nel corso della mia vita. Ebbene, la squadra che abbiamo messo insieme per Silva è una squadra straordinaria fatta di due D e tre U. Vi chiederete, ma cosa sono queste due D e tre U? Potrei dirvi, e potrebbe essere banale, donne e diversità. In realtà è fatta di sapere ascoltare, mettersi in una posizione di ascolto per capire quali sono le esigenze del territorio, ma anche le esigenze dei diversi membri della squadra. E per quello ci vuole duttilità e ci vuole dignità, che deve essere data a ogni membro della squadra. Ma ci sono anche le tre U. Umiltà. Umiltà, bisogna essere piccoli per poter essere grandi. Voi direte, com'è possibile che un uomo di due metri ci racconta questa fesseria? Beh, non l'ho detta io, l'ha detta Papa Francesco di nuovo, quindi me la consentirete. Ma non solo umiltà, ma umanità è uno dei principi fondanti della nostra fondazione, dare una mano al più debole, e soprattutto umorismo. Questa è la terza U. diffidate sempre, mi hanno insegnato, di persone che non sanno ridere, soprattutto di se stessi. Ci siamo chiesti cosa vuol dire vincere o perdere, che quando immagini una missione devi porti degli obiettivi. Ebbene, sappiate che nel corso della mia esperienza di vita e professionale, vincere o perdere in realtà non è il tema. Ho vinto tanto, ho perso tanto, nessuno ha vinto sempre, e nessuno perde sempre. A volte però succede che si vince in due, solo in due. Nel mio mestiere si tratta di negoziazioni. In una negoziazione uno pensa di aver vinto, ma vi racconto un'esperienza che mi è capitata nei primissimi anni. avevamo venduto, per conto di una grande famiglia italiana, una grande azienda. E insieme al proprietario andammo a festeggiare in un pub a Londra. E mentre festeggiavamo, ci sembrava di aver raggiunto il prezzo migliore per quell'operazione. Avevamo venduto alla grandissima. Esco, mi avvio verso casa, e 300 metri più in là, in un altro pub, vedo uscire i compratori, abbracciati, contenti, come se avessero vinto il campionato del mondo. In realtà erano loro che avevano pensato di aver vinto, erano loro che pensavano di aver strappato un ottimo affare. Quindi lì capì una cosa importante. Al di là della percezione, si deve vincere in due, in ogni negoziazione. E in alcune partite bisogna capire come si può vincere tutti insieme o perdere tutti insieme. Pensate al cambiamento climatico. È tutto il mondo che si gioca una partita. La stessa cosa, la guerra nucleare, perderemmo tutti. Allora, nel caso della questione climatica, a Silva noi siamo pronti a vincere questa partita, perché non possiamo perderla. Ne va della nostra specie. E in questo senso siamo pronti a mettere insieme dei mondi che troppo spesso non si parlano. Io vengo dalla finanza, ma l'industria, la politica, l'associazionismo. Troppo spesso, soprattutto nel nostro paese, questi mondi non si parlano. Visto che parliamo della sopravvivenza della specie, è importante che si torni tutti insieme a puntare nella stessa direzione, come si è fatto per il Covid. Esattamente così. E il nostro augurio è questo. Infine, vivere per qualcosa che superi l'uomo. Questa è la vera missione della Fondazione Silva. Quando pianti un albero, sai perfettamente che quell'albero lo stai piantando per le prossime generazioni. non lo vedrai nel corso della tua vita. Lo vedranno forse i tuoi figli, ma poi lo vedranno i figli dei tuoi figli. E in questo senso è il senso quasi spirituale di questa nostra missione, che ovviamente parte da una cosa molto concreta. Dobbiamo piantare degli alberi, ma si sviluppa nella nostra testa verso l'infinito. E in questo senso il mio sogno che vi ho raccontato all'inizio in realtà adesso è cambiato. È in due sequenze. Nella prima piantano questi bambini degli alberi. Li piantano insieme a me, li piantano insieme a noi di Silva. E qui questa sera c'è un po' di amici di Silva. Ma poi nella seconda sequenza io non ci sono più. Ma ci sono i miei figli, i figli dei loro figli, sotto questa foresta, all'ombra, e il cambiamento climatico si è risolto. Grazie.